Ciao ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della serie su Minecraft FTB Praticamente sto giocando, me l'avete chiesto, me l'hanno chiesto giusto un commentino, mi ha scritto ma che pacchetto è? Sto giocando all'FTB da Airwolf Allora, cosa abbiamo fatto fino adesso? Fino adesso ragazzi non ho concluso proprio tanto, cioè non sono andato neanche tanto in miniera Quindi direi che in questo episodio andiamo alla ricerca di minerali Ok ragazzi ed eccoci qui in miniera Ovviamente per andare in miniera mi sono praticamente creato un altri due picconi, un'altra spada e un po' di torce E niente, andiamo alla ricerca di un po' di minerali preziosi che ci servono per iniziare a craftare qualche macchinario che ci serve per la sopravvivenza E non solo Qui abbiamo la bauxite che se non erro con la bauxite Ora non ricordo benissimo cosa si poteva fare Allora facciamo l'alluminium grit Mettendo la bauxite è un martello normale Altrimenti, ah ci dà praticamente l'alluminium Abbiamo capito La bauxite quindi è l'alluminium Mi piace questa nuova modalità di Dell'interfaccia della NEI Perché praticamente ci fa vedere Parecchi crafting ed è una cosa veramente bella E' un cambiamento abbastanza figo direi Allora qua ci prendiamo questo copper E scendiamo per trovare almeno il nostro primo ferro E infatti ragazzi non c'è bisogno neanche che scendiamo più di tanto Proprio perché il ferro l'abbiamo trovato a altezza abbastanza facile Qui c'è delle ad Io prendo questo ferro perché ci serve Prendiamo anche del carbone visto che stiamo sprecando della legna Per utilizzarla come combustibile nel nostro fornace Quindi prendiamoci questo carbone E continuiamo questa avventura nella cavernozzola Perché ragazzi oggi dovremmo prendere un bel po' di minerali Abbiamo capito ragazzi che gli scheletri dobbiamo lasciarli stare Perché mi sono imbattuto in tre scheletri E ho rischiato di lasciare già le pinne Praticamente di morire per la prima volta Allora qua si può scendere però dobbiamo trovare una strada un po' più comoda Nell'affrontare questa discesa Questo è il limestone Un sacco di materiali nuovi che io non conoscevo Visto che ripeto è da tantissimo pure che non gioco a minecraft Quindi è normale che troverò dei materiali o dei minerali nuovi che hanno introdotto con i nuovi aggiornamenti Però mi hanno preso altri giochi Tipo adesso mi sto chiudendo tantissimo su Farming Simulator Come ho detto negli scorsi video Mi sto chiudendo tantissimo con Watch Dogs 2 Infatti pomeriggi ci sto giocando tantissimo con il mio amico Ieri dovevo andare in live Però dall'ultimo live che ho effettuato Non so se per il fatto che non è arrivata una notifica O per il fatto che non gradite le mie live Ho deciso che ieri non dovevo andare in live E quindi giocarmelo per fatti miei con il mio amico Oppure può essere che magari è un orario in cui voi state facendo i compiti Come così sia E quindi bene o male non c'era tanta gente Ma l'ho provato a fare pure domenica mattina una live Verso le 9 Ma niente pure domenica non c'era tanta affluenza Poi non so ragazzi mi sto sbagliando sicuramente Ma un consiglio vi voglio chiedere se guarderete questo video Come faccio a togliere il salto automatico Perché si è comodo magari quando si scappa Ma è scomodissimo ad esempio Vedi quando stiamo in miniera Perché se vogliamo fare la strada che diciamo noi È un po' un rompipalle Vabbè Io Ditemi il tasto mi raccomando Non vi dimenticate perché è abbastanza utile per me Qua sento dei creeper che stanno morendo Credo in una lava Credo che sono caduti nella lava Ma staremo a vedere Scendiamo un po' più giù e vediamo un po' che minerali Troveremo Come vedete ragazzi abbiamo trovato anche della tin Che è un materiale abbastanza utile E adesso sto alla ricerca Praticamente mi sto concentrando sul redstone Perché ragazzi perché almeno possiamo iniziare a fare i primi generatori O magari i primi solar panel Quindi direi che appena troviamo la redstone Risaliamo verso casa Iniziamo a creare i primi macchinari Ripeto per poter sopravvivere In questa nuova esperienza su minecraft Sull'effetto B direwolf Vedete qua sto trovando veramente tantissimo tin Il problema è che come un idiota Sono sceso con pochissimo legno Quindi Aia sto un po' E' scarso Praticamente sto scarso di legno Non good Non good Non good Stiamo a altezza 25 Stiamo ancora scendendo Però ripeto raga Mi serve il legno Perché sto per completare Per distruggere anche questo mio terzo piccone Ok qua abbiamo trovato Una caverna Con un cazzo di ragno Rompicoglioni Quindi mettiamolo così Chiudiamolo così Ok chiuso Mettiamo una torcia qui Spengate Sono stronzi forti questi Questi cazzo di scheletri raga Non mi hanno troppato neanche un arco Così almeno Potevo Potevo provare A combattere Vabbè Mangiamoci un pezzo di carne Tanto vedo che la La vita sale Velocissimamente O velocemente E muori Cazzo Questo che è Orange shimmering mushroom Dei funghi arancioni Oh Qua abbiamo trovato già Siamo scesi praticamente Nel canyon La vediamo Dell'oro Lace Del quarzo Quello Non so Cosa dovrebbe essere Dovrebbe essere Credo Alluminium Qua mi prendo Quest'altra tin Prendiamoci Quest'altra tin Perfetto Qua mi prendo Quest'altra copper Ok Sappiamo che da qua Siamo scesi Quindi da qua Dobbiamo risalire Sperando di ricordarci La strada Però Credo che non è Tanto difficile Allora io voglio andare Prima Lì di fronte Per vedere Se c'è Qualcosa di particolare Allora ci facciamo Tipo una passerella Così Così almeno Non ci possiamo Sbagliare Questo è un Fungo rosso Vedete infatti Già ci sono Nuove tipologie Dei funghi Ci sono i funghi Arangioni Funghi rossi E bla 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 Via dicendo Peccato che non c'è La mod Quella che ci permette Di trasformarci I funghi bianchi Questi sono quelli Più velenosi Secondo il mio lavoro Che io faccio Praticamente L'agricoltura Però se troviamo Dei funghi bianchi Credo che sono I più velenosi Allora qua abbiamo trovato Dell'altro ferro Dell'oro Del carbone E se via dicendo Perché se io adesso Provo a farmi Una Craffin table Con una fornace Sì 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 Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Quindi mi faccio Una craffin table E una fornace Allora ragazzi Ho cotto Tutto il ferro Che avevo a disposizione Creandomi Una craffin table E una fornace Mi sono creato Un piccone in ferro Altri due picconi In pietra E direi di proseguire Questa nostra avventura Allora questa fornace Allora questa fornace me la prendo Questa pure graffin table Me la prendo Ci mettiamo la graffin table Qua la fornace Qua questa cesta Ragazzi non ho capito Come funziona Se qualcuno di voi Sa come funziona Questa nuova mod Per piacere Spiegatemelo Allora con il piccone in ferro Prendo questo oro E continuiamo Ripeto Questa avventura Prendo quest'altro coal E Ma adesso ragazzi Punterò solamente Sulla redstone Quindi appena arriviamo Vicino alla redstone Diciamo riprenderò il video Perché Tutto questo minerale Adesso lo prenderò Tutto offline E Giusto perché ragazzi Non vi do noia E so che Vedere è giusto Scavare Scavare così A cazzo Credo che Potrebbe dare Tantissima noia Se è una live Non ci puoi fare niente Perché non puoi effettuare tagli Però almeno sul video Posso Posso effettuare dettagli Aspettate ragazzi Qui vedo del Black quartz ore Un nuovo Minerale Questo è un nuovo minerale Per me Perché Black quartz ore Non ho mai sentito Il Il quartz Nero Questo qua Ovviamente Credo che si cuocerà Ah ragazzi Ho tolto il tasto Dell'auto Jump Era facilissimo Per andare a posizioni Controlli E fare auto jump Off Ragazzi Io cerco la redstone E ci vediamo A fra poco Ok ragazzi Sto intravedendo La nostra prima redstone Che è un materiale Abbastanza utile Specialmente Agli inizi Su minecraft Proprio perché Ci permette Di creare Circuiti E roba del genere Quando iniziamo A fare le parti Elettriche Di regola Si dice che Vicino alla redstone Dovrebbe esserci Del diamante Se siamo Fortunati Ragazzi Dobbiamo Trovarlo Altrimenti Cippa Allora Io ci metto Un altro po' Di redstone Qui Voglio arrivare Pure dall'altra Zona Solo che Sto fatto Non mi piace La passerella Uno Oh Come no Là c'è del diamante Ragazzi Come primo Si può dire Come secondo episodio Già abbiamo trovato Del diamante Si vabbè Non è tanto difficile Al giorno d'oggi Però Basta scendere Come avete visto Di livello E si trova Facilmente Allora ci prendiamo Un altro po' Di cobblestone Facciamo la nostra Passerella Perfetto E siamo arrivati Al diamante Il nostro primo diamante Quindi prendiamolo Sbem Solamente un pezzo Va bene Meglio di niente Dai Siamo stati Diciamo Sfortunati Fortunati Che l'abbiamo trovato Già nel secondo episodio Però Ne abbiamo trovato Giusto un pezzo Allora Fatemi tornare A prendere La redstone Che era quella Che mi serviva A me Eccolo qua Perfetto Redstone Presa E ragazzi Si ritorna a casa Solo che io Ritorno a casa Offline Noi ci vediamo Nel terzo episodio Della FTB Direwolf Ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Come supporto Di questa nuova serie Mi bastano anche Mi bastano anche 5 like Va più che bene E niente Giusto per darvi Un po' di Motivazione Per poter continuare O fare video Su youtube Ragazzi Niente Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti Da Midicaccio85 E alla prossima